Ciao ragazzi e ciao ragazze, sto andando in palestra e mi sto preparando la merenda ho pensato di farvi vedere una ricettina che faccio spessissimo che è super super semplice ed è ottima per la merenda e anche per la colazione ma anche per un dolcetto quando volete qualcosa di dolce e buono però con pochi grassi, molto molto sano, naturale, light, carlita style insomma e sono delle torte che si fanno praticamente pochissimi secondi sono troppo troppo fighe perché appunto non si sporca nulla, non ci vuole tanto tempo ovviamente senza zucchero, adesso vi faccio vedere senza burro insomma sono buone buone buone, sane, veramente vi consiglio di provare sono ricette troppo troppo fighe ecco il mio quaderno con tutte le mie ricettine che esperimento io ogni giorno invento una ricetta nuova, poi l'esperimento, faccio, dico, fin quando non mi faccio i video e adesso vi faccio vedere perché praticamente vado a pesare tutto qua dentro io utilizzo la farina d'avena che sapete che mi piace tantissimo è una delle farine migliori comunque per stare in forma e ve la consiglio tantissimo è anche delle contiene anche proteine, molto molto leggera infatti è quella che ho utilizzato anche per i panchi che vi ho fatto la ricetta sempre su questo canale quindi metto la farina d'avena che è anche un basso indice glicemico comunque è ottima, come sapete vi dico sempre o meglio la farina integrale o queste farine speciali poi ci metto lo yogurt di soia che a me piace tantissimo questo lo mangio tantissimo anche così lo adoro ed è molto molto buono comunque tutto quello che vi faccio vedere lo trovate in qualsiasi supermercato quindi non avete scuse poi metto il cacao cacao bio adoro troppo poi ci metto lo sciroppo d'acero invece dello zucchero metto questo qua che adoro troppo questo è nuovo e l'abbiamo comprato di recente vi abbiamo fatto il video sui nostri acquisti bio e questo qua è completamente naturale lo adoro troppo in sostituzione dello zucchero è fantastico poi metto l'albume l'albume io lo metto per rendere questo tortino proteico quindi per andare a fare palestra mi va anche nei muscoletti e se siete vegani potete anche non mettere l'albume e mettere tutto il vasetto di yogurt di soia vi viene buono comunque lo faccio in entrambi i modi e adesso ho bisogno di un po' di proteine quindi ci metto anche l'uovo a questo punto vado a mescolare i tuorli non li metto perché ovviamente sto facendo una cosa abbastanza light quindi mi risparmio tutti i grassi del tuorlo e ci metto le proteine dell'albume però in alternativa potete anche mettere invece di mettere due albumi mettete un uovo intero e va bene lo stesso adesso io per fare prima e per non sporcare non prendo neanche le fruste io lo mescolo direttamente così mi trovo benissimo cioè faccio sta cosa anche la mattina quando mi sveglio mescolo adesso tre secondi deve cuocere pochissimi minuti non ha bisogno di lievitare non ha bisogno del forno adesso vi faccio vedere c'è il trucco e anche per merenda infatti adesso lo mangio per me mescolate un po' non c'è bisogno neanche di usare il frullino ecco qua quando è tutto liscio vedete? tipo così ok ci andate a mettere il lievito un pizzichino di lievito ok a questo punto date l'ultima mescolatina del lievito ed è pronto a questo punto lo vado a versare ragazze nelle tazze potete utilizzare delle tazze potete utilizzare dei dei contenitori comunque che devono andare nel microonde perché questo si cuoce a microonde in pochissimi minuti e vado a mettere qua dentro per fare un tocco ancora più goloso che faccio? ci metto un po' di cioccolato fondente ma anche così non ce ne sarebbe bisogno lo faccio io no c'è bisogno di cioccolata eccolo è sfuntato quando si parla di cioccolata sfuntatense eccolo qua metto un bel quadrotto questa ricetta era per due tazze cioè per me e per Nancy e un quadrotto di questo a persone praticamente quindi che è una cosa molto molto leggera sapete che lo cioccolato fondente fa tanto bene metto i pezzettini così viene tipo un cuore caldo capito Nancy? di cioccolato fondente pensavo quando ci mancavo si scioglie esatto dentro c'è questa cioccolata sciolta tipo come una sorpresa va? bene buonissimo ecco qua andiamola a mettere nel microonde ecco qua nel microonde prendiamo la nostra tazza quando la vogliamo mangiare adesso andiamo a metterla qua dentro mettiamo prima un lato tanto apriete perché guardate che succede se no scoppa quindi aprite un po' e poi richiudete e lo fate andare e che lievita lievita automaticamente qua dentro guardate come bellino quindi per paura che esce fuori ecco qua è stata una nostra tazzina guardate potete fare così da 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 dopo che si fondi si scioglie dato che a non si piace faccio proprio tipo una copertura soccolato chiuso mamma mia bello eh bellino troppo carina guardate è proprio un tortino questo adesso poi si scioglie guarda come bello che cioccolato che si scioglie è troppo bella è bellissima ecco qua guardate wow dentro com'è dentro è proprio un tortino vedete col cioccolato che si scioglie si è proprio un tortino non avete sporcato nulla avete fatto una torta buona sana e leggera in tre mosse praticamente buon appetito se vi è piaciuto il video mettete un bel pollice in su e vi mando un bacio grande ciao 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 a te danesi mmm yummy ciao a te danesi ciao a te danesi ciao a te danesi ciao a te danesi ciao a te danesi